Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Di promozione all'estero, noi abbiamo proprio chiesto ad Alessandra Ghisleri se dopo un anno di governo Giorgia Meloni è stata promossa o bocciata. Allora Alessandra a te i voti. Allora possiamo dire che ovviamente l'elettorato che sostiene i partiti della maggioranza promuove Giorgia Meloni ma in maniera diversa nel senso che quel 38,4% è composto principalmente da quasi il 100% degli elettori di Fratelli d'Italia e dal 90% degli elettori di Fratelli d'Italia. Più scettici e più severi invece col 70% sono gli elettori della Lega. Poi ovviamente la parte delle opposizioni boccia il governo perché ovviamente è anche il ruolo e quindi quel 50% viene giustificato con 53,9%. Nel cartello 106 invece abbiamo chiesto proprio un voto scolastico. Posso chiesti una cosa? È la seconda volta che tu ci metti in evidenza proprio un'incredibile difformità nel centrodestra del giudizio sulla Lega e sulla Meloni. Ma da che cosa è dovuto? Anche a un fattore che tipo sociale, politico, geografico? Qual è il motivo? Perché è molto forte questo riemerge in varie domande che fai. Principalmente... Non piace. Sì Luca, noi siamo andati anche a vedere... No, non è che non piace perché comunque riscuota un 69,8% quindi un 70%. Il tema è che sono molto più severi perché più legati a una politica salviniana che in molte sfaccettature è stata abbandonata rispetto alla politica di Fratelli d'Italia. Ed è quella parte più combattiva, quella parte che desidererebbe una politica molto più ferma sui migranti ad esempio, sulle pensioni lo sappiamo, l'accordo trovato sulla Fornero non piace e così via. E queste sono tutte posizioni che bocciano ovviamente da parte dell'elettorato, di una parte con un 30% dell'elettorato della Lega bocciano l'esecutivo. Infatti nel voto, anche nel voto, noi abbiamo fatto un voto scolastico come esercizio e vi è una sufficienza scarsa, cioè il 5,9%, un 6 meno. Ed è composto da un 9,5% degli elettori Fratelli d'Italia, un 7,8% quasi quasi un 8% degli elettori di Forza Italia e un 7,5% anche qui degli elettori della Lega. Mentre tutti gli altri non superano, cioè diciamo che i voti più alti si riscoprono tra gli elettori di azione e di tagliaviva dove abbiamo un 5, un 5 più, un 5 più più. Tutti gli altri invece sono intorno al 3. Sopra la meno. Sopra la meno. Sopra la meno. Sopra la meno.